Buonasera dalla redazione di GR24, da Maria Piera Ceci è arrivata anche in Europa la tensione sulle banche, con Deutsche Bank nel mirino dei venditori, i titoli del settore hanno trascinato a ribasso le borse europee. Milano la peggiore con una perdita del 2,23%. Nonostante la corsa alle rassicurazioni da parte delle autorità di regolamentazione delle istituzioni e dei governi, la BCE è attrezzata per fornire liquidità se necessario, ha detto Christine Lagarda all'Eurosummit, garantendo la solidità delle banche dell'Eurozona, sugli indici pesano i timori sulla tenuta del sistema finanziario. Niente da fare, è bastato un venerdinero in borsa a far evaporare le speranze che il salvataggio del Credit Suisse potesse bastare a risolvere la crisi bancaria o perlomeno a respingerla al di là dell'oceano negli Stati Uniti, da dove è partita e dove sembra non essere ancora arginata. Dunque, la protagonista del venerdinero è stata l'Europa, in particolare la Germania. Due piccole banche non rimborseranno infatti due bond subordinati, preferendo tenersi la liquidità piuttosto che doverla chiedere a prezzi ancora più alti al mercato. Apparentemente non c'è un nesso diretto con la crisi elvetica, ma certo, un nuovo allarme legato ai subordinati ha spaventato il mercato, che in Germania vede anzitutto un pericolo che si chiama Deutsche Bank. La banca è tornata redditiva, come ricorda Berlino, ma dopo un decennio di crisi e di scandali legati agli eccessi della finanza non ci si fida ancora del tutto. L'Italia non è rimasta immune, con i titoli dei principali istituti che hanno perso tra il 2 e il 4%, anche se quasi provvidenzialmente nelle stesse ore arrivava un'indagine del sindacato Fabi a ricordare la solidità del sistema bancario nazionale, con un indice di liquidità che si era al 200% e una patrimonializzazione che non si era mai vista. Un'argine possibile contro possibili nuovi stress di mercato, ma certo sta di fatto che se dalla Svizzera il problema si sposta in Unione Europea e in particolare in Germania, la questione bancaria ormai non è più solo finanziaria, ma sempre di più un problema politico, che riguarda le regole, l'unione bancaria e le garanzie che il vecchio continente potrà dare al mercato di agire compatto in caso di nuovi terremoti. Marco Ferrando, Radio 24, il sole 24 ore.